È attivo dal primo dicembre, dopo una fase sperimentale, il servizio di carrozzine elettriche all'azienda ospedaliera universitaria senese, dedicato ai pazienti con problemi di deambulazione che hanno necessità di raggiungere per una visita o un esame le varie zone dell'ospedale. In particolare sono attive due carrozzine elettriche con operatore dedicato e una terza è a disposizione della discharge room, il servizio dedicato ai pazienti in dimissione dall'ospedale. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e gli utenti possono rivolgersi alla portineria o ai servizi accoglienza per informazioni. Gli operatori che si occupano di guidare le carrozzine elettriche e accompagnare i pazienti sono disponibili all'ingresso esterno dell'ospedale e garantiscono il tragitto lungo il tunnel fino all'ambulatorio di destinazione. La procedura prevede per gli utenti interessati il rilascio di un numero di cellulare per essere richiamati al momento della fine della visita ed essere riaccompagnati all'uscita. Grazie alla tipologia di carrozzina gli utenti possono essere accolti sia presso i parcheggi della Sigerico adiacenti gli ospedali che nelle porzioni di posteggio sterrato. È possibile prenotare il servizio telefonando al 338 68 33 846.